Lo farà. Ci vediamo domani a scuola. Con affetto, la tua amica Marinette. Bel lavoro! Abbiamo una nuova e migliore Marinette. È davvero così meravigliosa ed elegante. Lo è sempre stata. Non cambia mai. Lei è così Ladybug. Ti riferisci a quando non si presentò a un appuntamento romantico sul tetto di una casa parigina? O a quando ti disse che era innamorata di un altro? Io non voglio giocare coi tuoi sentimenti perché vorrebbe dire mentirti. E io non voglio...